Salve a tutti cari amici di Popcorn, oggi non abbiamo una ma ben due notizie super croccanti che riguardano due bei ragazzoni. La prima riguarda l'universo di Star Wars, non c'è ancora conferma ufficiale da Lucasfilm e Disney, ma sembra proprio che sia stato scelto Alden Eren Rai per interpretare il giovane Han Solo nello spin-off dedicato a lui. Il film racconterà anche le origini dell'amicizia appunto fra Han e Chewbacca e uscirà il 25 mazzo 2018. Vi sconfiffer Alden, non dico il cognome perché è troppo difficile, nei panni di Han Solo, ma parliamo di un altro attore molto interessante, ovvero Jared Leto, che fra pochissimo vedremo nei panni di Joker in Suicide Squad. Sembra che il regista Josh Boone abbia consegnato alla Universal la sceneggiatura per il remake di Intervista col Vampiro, celebre film del 1994. E lo stesso Boone ha pubblicato una foto di Leto su Twitter indicandolo, molto esplicitamente, come possibile Vampiro. Jared secondo me ci sta, però voi fatemelo sapere con un commento qua sotto e mi raccomando tenete occhi e orecchie ben aperte, controllate www.screenweek.it e scaricate l'applicazione. Bye bye!